Ampliamento e adeguamento degli impianti, nuovi collettori, rissanamento del padule di Fucecchio, realizzazione del depuratore di Ponte Bugianese. In sintesi, la riorganizzazione della depurazione industriale nel comprensorio toscano del cuoio e in quello civile del circondario empolese di Valdera, Valdelza e Valdinievole. Gli stanziamenti sono previsti da un accordo in programma firmato con il Ministro dell'Ambiente nel 2008 e appena rinnovato da tutte le parti in causa, regione, comuni, province, associazioni, dei conciatori, per poter finalmente iniziare i lavori, peraltro già avviati da molte aziende per la parte di loro competenza. Sul piatto ci sono 204 milioni di euro, di cui 145 immediatamente disponibili e stanziati da Ministero e Regione Toscana. Tra gli interventi prioritari da realizzare entro il 2016 c'è la tutela e il rissanamento del padule di Fucecchio, 5 milioni di euro, la realizzazione del depuratore di Ponte Bugianese, 8 milioni di euro. Sì, è un accordo importante che noi abbiamo rinnovato con il Ministero dell'Ambiente, con gli enti locali interessati, oltre con le associazioni dei conciatori e anche con l'autorità d'ambito che avrà a suo carico importanti investimenti che riguardano quella zona. In tutto l'accordo prevede investimenti per 204 milioni di euro, di questi la parte più significativa ovviamente sono interventi in finanziamenti previsti dal Ministero, dalla Regione Toscana, dall'AIT, quindi dall'autorità idrica toscana, in parte ricadenti sulla tariffa e una quota parte anche da parte delle associazioni conciatori. L'obiettivo di questo accordo è potenziare e rafforzare la depurazione industriale e la depurazione civile in una zona molto ampia, che è quella che va dal circondario empolese fino a ricomprendere la Valdera, la Valdezze e la Val di Nievole, che è interessata da tanti depuratori civili, ne verranno dismessi molti per concentrare la depurazione civile ai tre depuratori industriali che interessano la zona del cuoio, che verranno appositamente potenziati, in più verrà creata una condotta che consentirà di riusare le acque reflue così da ridurre gli utilizzi e prelievi dalla falda per quanto riguarda i processi produttivi di un comparto economico molto importante come quello del cuoio, in modo da garantire sia su fronte della depurazione sia su fronte dei prelievi una maggiore sostenibilità ambientale oltre agli interventi di mitigazione che sono stati previsti per quanto riguarda il padule di Fuscecchio, visto che il Comune di Ponte Bugianese ospiterà nel suo territorio un depuratore molto importante.